Ben ritrovati ragazzi nella casa del foot, qui è Mick e questo è il quinto episodio del Play for Fame. Prima di iniziare vi dico che a fine episodio troverete il contest, le estrazioni per il contest, quello del 50k, il contest d'apertura. Quindi quando finisce il video rimanete, non staccate perché ci sarà il contest, quindi guarderete se voi, naturalmente se avete partecipato, magari se avete vinto. Allora, detto questo, siccome c'è il contest, in questo episodio ho tagliato un paio di cose, tipo per esempio la parte finale delle partite, che ho messo soltanto la classifica e mi sembra basta. Solo quello, giusto per non farlo durare troppo perché sennò non lo caricavo più con la connessione che ho. Comunque, detto questo, entriamo subito nel vivo del video. Qua ci sono già stati due gol, allora, la prima partita che ho fatto è stata contro una squadra molto forte. Squadra forte, però non il giocatore che la usava. Infatti, se non ho sbaglio, vinco, non mi ricordo quanto, 5-2 forse, o 6-2. Pur passando in svantaggio, cioè, sono passato in vantaggio prima, poi mi ha fatto due gol. Uno con Feleni di testa, che ha alto due metri, e poi l'altro con Balotelli, un gran bel gol. Però, diciamo che, sapevo che non era molto forte, cioè, sapevo che comunque ero più forte. Quindi, mi calmo, diciamo, inizio a segnare. Qua un gran bel gol di Menez, a me è piaciuto tantissimo questo gol. Vabbè, e a me Menez piace tantissimo, veramente, perché mi piace proprio come gioca. Nel senso, è proprio un attaccante forte. Qua, per esempio, si è staccato dall'avversario, è andato a colpire, è andato a anticipare l'avversario. Pochi, comunque, avrebbero fatto un movimento del genere. Bene, qua c'è un gol identico, in pratica, con Gognalons, il gol del 3-2. E poi c'è un gol dalla distanza, questo qua, con Aubameyang. Gran bel gol, un buon tiro. Vabbè, ormai Aubameyang, sapete come la penso io e come la pensa anche Andre. Gol al 45esimo, quindi diciamo che ho avuto anche la fortuna di andare all'intervallo con due gol di vantaggio. Una volta sul 4-2 era abbastanza semplice e qua a Menez si inventa un gol assurdo. Il gol del 5-2 si scarta in pratica tutta la difesa, tanto il portiere non sbaglia. La mette sul secondo palo, 5-2, facile, facile. Un 5-2 che, diciamo, costringerà l'avversario al ritiro, come vedrete tra poco. E quindi, diciamo, un'ottima vittoria per andare a vincere la divisione 4. Vinta la divisione 4, come vedrete tra poco, guadagno 5800 crediti, con cui andiamo all'asta per mettere a posto innanzitutto la difesa. Perché volevo, magari nella divisione 3, prendere meno gol. E quindi, visto che comunque l'attacco era abbastanza buono con Aubameyang, Menez e Brian, eccetera. Quindi andiamo a comprare Mariano, terzino destro e Sako, difensore. Quindi la difesa dovrebbe essere a posto con Bedimo, Mariano, i due terzini e Sako Yangambiwa ai centrali. Poi compro Remy, che lo trovo a 2003, quindi anche un buon prezzo. Perché è l'attaccante principale della Ligan, quindi lo volevo prendere. E qua mi vedo costretto a scartare Gomis, perché comunque gli serviva un contratto. Ed era l'ultimo a cui avrei messo un contratto, visto che avevo già Aubameyang e Remy. Quindi l'ho scartato per guadagnarci 300 crediti, per prendere contratti, per darli a giocatori che magari servivano contratti, ma che servivano di più in squadra. Ecco, quindi solo per quello. È stato un dispiacere, perché aveva segnato veramente tanti, tanti gol. Quindi è stato un po' un dispiacere. Compro un po' di contratti, perché ne servivano, ne servivano veramente molti. E poi vado a guardare l'asta di Remy, di Sako, che ci ho impiegato un po', tipo 20 minuti. E compro anche Pitroipa. Pitroipa che è un'ala sinistra, con 92 velocità, in pratica ha soltanto velocità. Cioè, da quello che sembra. Poi secondo me è parecchio buggato, perché lo vedrete nella seconda partita. Questo pezzettone di acquisti è un po' lungo, ma, come avete visto, ho guadagnato tanti, tanti crediti, con cui mi sono comprato tanti giocatori per mettere a posto la squadra. La seconda partita, anche questa è una partita abbastanza difficile, sempre contro una squadra con la premia, però guardate chi ha in attacco. A Runei e a centrocampo Gerrard. Comunque è una squadra non scarsa. Però comunque aveva i moduli tutti sbagliati, quindi sapevo che in campo stava male. E infatti guardate questa azione, 1-2 in velocità, Menetz va sul fondo, cross in mezzo, arriva Pitroipa di testa, che ha 50 di testa. Quindi penso sia abbastanza buggato. Stacca di testa, anticipa l'avversario, 1-0 al dodicesimo. E qua, gol identico, identico, uguale, uguale. Trovatemi delle differenze. 1-2 ancora, Menetz va sul fondo, cross in mezzo. Arriva sempre Pitroipa, che anticipa sempre Hager. 2-0, doppietta di testa, doppietta all'esordio, esagerato Pitroipa, va a fare le capriole che lo contraddistinguono. Al ventinodesimo già 2-0, questi due gol. E qua, vabbè, ormai è tipo il quinto gol in cinque episodi che ci regalano così. Remy, no, sì, Remy, cross dentro, Pitroipa, 3-0, tripletta all'esordio. Ancora Capriole, doveva farne troppe. Gran bel giocatore. E poi, sempre uguale, identico, uguale, sempre tutti uguali. Vado sul fondo, dentro, con gli Alons di testa, seconda doppietta di testa, cioè secondo gol di testa in due partite. Anche quella di prima aveva segnato. Non un gran che di giocatore, ma comunque si fa sempre trovare il punto. E anche questo avversario se ne va sul 4-0, se non mi sbaglio. E ho un 5-0, poi non mi ricordo più. E poi c'è il terzo avversario, che è l'ultimo avversario che però perdo, ragazzi. Sì, perdo 2-0, guardate che giocatori aveva troppo forti per me. Non è che non c'è stata partita, è che non riuscivo a sfondare. E qua c'è il gol del 2-0, perché il gol del 1-0, la mia aver media, ha avuto un mancamento. E non me l'ha registrato, quindi scusate per il gol. Però, vabbè, era un semplice, semplice tiro di Benzema da fuori aria, tiro-gol. Dunque, ragazzi, l'episodio finisce qui. Mi raccomando, aspettate due secondi e arriva il contest. Bella! Eccoci qua, ragazzi. Questo è il nostro canalino, quello mi dà sempre fastidio. Facciamo così. Allora, questo è il contest. Sono 266 commenti, quindi si fa così, si fa così e si fa così. Ci si sfrega le mani. Con il ditino si va a cliccare. Dove cazzo sto andando? Qua! 34! Perfetto, contiamo insieme? No! Vado a contare da solo e mi fermo e poi, cioè, ve lo gizzo il tutto e poi controlliamo insieme. A tra poco. Rieccomi, ragazzi. E' colui, il fortunato. Colui. Bombere 21. Si clicca. Si clicca. E si va qua. Allora. Allora. Dunque. Se voi vi riuscite a... Ah, ok! Oh! Si è iscritto, ha commentato, ha aggiunto tue preferite, ha gradito. Perfetto. Bombere 21. Sei tu il vincitore del contest da 50k. Appena finisco il video ti manderò un bel messaggione. E niente, ragazzi. Tranquilli, comunque, che non subito, ma tra un po' faremo comunque altri contest. E quindi, non disperate. Provate sicuramente... Provate alla prossima. Anche tu, Bombere, se vuoi riavere culo. Questo è stato proprio un gran bel culo. Riprova ancora. E niente, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. E noi ci sentiamo al prossimo video. Bella! Ciao! Ciao! ! Grazie.